Andiamo avanti però con notizie di medicina. A Napoli si è discusso di nuove terapie per contrastare l'emicrania, patologia che colpisce nella nostra regione 700.000 persone. Ce ne parla Nello di Costanzo. A Napoli discussa in tutti i suoi molteplici aspetti l'emicrania, forma di cefalea caratterizzata da dolori intermittenti con ampie sintomatologie che vanno dal fastidio per luci e suoni alla nausea e al vomito. Una patologia definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come la più disabilitante nei soggetti al di sotto dei 50 anni. In Campania quasi 700.000 persone soffrono di emicrania, ma ora sono in arrivo novità terapeutiche presentate nel corso della chermessa sanitaria Napoli-Cefalea 2018. Abbiamo organizzato delle relazioni sulla diagnosi, sull'epidemiologia, sulla cura e in particolare sulle nuove molecole che si stanno affacciando nell'ambito per adesso solo sperimentale che speriamo a breve possano far parte del nostro armamentario terapeutico in clinica. Le nuove terapie farmacologiche che possono essere utilizzate per l'emicrania fanno sì che questa condizione non venga più vista come una condizione da subire senza alcuna speranza, ma come una patologia che può essere trattata e risolta definitivamente. Grazie per la visione!